Il sindaco di Pratola Pellinia, Antonella Di Nino, ha ceduto il vaccino anti-covid ad una madre che assiste sua figlia minore, affetta da una grave malattia, che la esporrebbe a dei grandi rischi nel caso dovesse contrarre il virus. Un atto di generosità nei confronti della donna, che attualmente non rientra nelle categorie alle quali è consentita la vaccinazione e non appena le è stata comunicata la scelta del sindaco, ha espresso la sua gratitudine per il gesto inaspettato, che sicuramente le permetterà di essere più tranquilla e di stare vicino alla sua piccola figlia. Ho raccolto l'esigenza di una mamma che da due anni combatte insieme alla propria piccolina contro una gravissima malattia e oggi credo che la mamma ne ha bisogno, ne ha un bisogno assoluto e quindi ho chiesto qual era la modalità per poter far accedere alla piattaforma la signora, ma al momento non ci sono queste strade da percorrere e quindi a quel punto, visto che il 22 di febbraio l'ASL aveva inviato a tutti i comuni la richiesta di un elenco di nominativi iscritti all'unità di crisi, tra i quali figurano anche gli amministratori, a quel punto ho detto allora se questo può servire togliete il mio nome ed inserite quello della signora. Però devo essere molto onesta, mi auguro che questa sostituzione avvenga in tempi celeri, perché comunque quegli iscritti all'unità di crisi non verranno vaccinati in questi giorni, ma non c'è ancora una data perché possa essere indicata la vaccinazione di quei nominativi. E quindi ho detto io cedo la mia dose perché credo che oggi lei venga prima di me sicuramente e quindi prima di tante altre situazioni, dico però non me la fate aspettare, nel senso che non facciamo che venga chiamata quando verranno chiamati quegli iscritti, magari cercate di anticiparla perché oggi l'esigenza è davvero un'esigenza primaria. Al momento non ci sarebbero altre soluzioni, visto che la donna attualmente non ha i requisiti per accedere alla piattaforma degli over 80, delle persone fragili e dei docenti scolastici. Questo, devo essere molto onesta, è un gesto venuto dal cuore, dal cuore di una donna che pur non essendo mamma si mette però nei panni di una mamma. Voglio sperare che questo sia il momento per aprire una seria riflessione.